Fano è una città la cui storia è legata alle attività marinare. Ed è proprio per questo che nasce Fano Gastronomica, il progetto che unisce i ristoranti della città fanese nel nome della tradizione in un'ottica sostenibile di filiera corta e a miglio zero, ristoratori e pescatori locali insieme per sostenere e salvaguardare la genuinità e la freschezza degli alimenti. La rite dei ristoranti del mare di Fano porta in tavola i sapori originali del pescato locale selezionato proveniente dall'attività di pesca artigianale e dall'acquacultura del territorio. Dieci le tappe e le attività coinvolte nel progetto promosso dall'assessorato al turismo del comune di Fano. Mercoledì si è tenuta la terza serata. Sì, veramente è un'iniziativa che sta andando molto bene. Chef Simone Lodovichetti che ci ha preparato un menù che è quello che tocca Fano Gastronomico, un progetto che vuole valorizzare il pescato locale, il nostro pesce dell'Adriatico e vuole far sì che questo pesce sia portato direttamente a tavola. Vogliamo che i turisti in arrivo nella nostra città abbiano dei luoghi dove assaggiare il nostro pesce, assaggiare il pesce cucinato dai nostri chef e pescato direttamente dai nostri pescatori. Le serate di quest'anno faranno conoscere i dieci ristoranti che per il momento aderiscono ma ci sarà la possibilità di aderire anche per gli altri che vorranno. Basta andare sul nostro sito visitfano.info per chi vuole partecipare perché ci sono segnate tutte le serate ma anche per i ristoranti che vogliono aderire perché ci sarà da partecipare a un disciplinare, a un progetto che appunto guarda in alto e vuole valorizzare la gastronomia fanese.